Dopo le presentazioni dei candidati consiglieri comunali stranieri pubblicate sul nostro portale il passato weekend, abbiamo incontrato i 10 pretendenti alla carica di consigliere aggiunto per conoscere le rispettive proposte. È la volta di Victor Iroguei in Italia da 18 anni. Il mio obiettivo è puntato sulla famiglia che vivono in condizioni di sopravvivenza critici in questo comune. Anche i ragazzi giovani che vivono qui nel territorio del comune di Ravenna. Poi per le relazioni interculturale di immigrati e cittadini italiani. Anche promuovere i diritti degli immigrati in questo territorio del comune di Ravenna. Il mio punto uno è della famiglia. Abbiamo tante famiglie che hanno problemi. Qui ha la madre, ha i due o tre figli, che non ha il lavoro. Anche non ha la casa, pesa la casa, per che motivo non ha i soldi di pagare l'affitto? Ha già mandato via il sfratto del tribunale. Quelle famiglie da oggi vivono con qualche altri amici che hanno bisogno di aiuti. E quello ha una proposta di progetto di solidarietà che ha favore a queste famiglie immigrati che vivono in condizioni grave. Anche i ragazzi giovani. Punto due. C'è altri, i madri, che hanno i due o tre figli, che hanno perso il lavoro. Per il motivo non è qualcuno che può portare i figli alla scuola fino all'orario di scuola. Per quanto ha chiamato l'editore di lavoro, viene a lavoro, perché loro hanno paura di non lasciare i figli a scuola. Quelle famiglie ha bisogno di aiuti, che ha inclusa di questi progetti di solidarietà, che possono aiutare con una bebescita, che possono aiutare queste famiglie. E poi i ragazzi giovani che vivono qui, che vengono in Italia a cercare il lavoro. Per cui in Italia adesso il lavoro è difficile. Per quelle ragazze si trovano in giro adesso a fare un servizio di abbolanti e chiedono l'aiuto avanti a tutti i supermercati qui. Questi ragazzi hanno bisogno in urgenza di sistemazione. Ti vogliono organizzare un seminario. Ti danno tutte le informazioni necessarie per la sua vita. Anche di fare una collaborazione con tutti gli istituti di formazione professionali, dove loro si possono partecipare a un corso professionale che abbiamo. Alla fine loro si possono trovare un buon lavoro in giro. Anche guadagnano bene, vivono bene, diventano anche l'operaio specializzato. Anche per l'interculturale, vogliono una relazione interculturale degli immigrati e cittadini italiani. Anche riorganizzare la rappresentanza più forte per le partecipazioni del festival che abbiamo tutti gli anni nella Comune di Ravenna. Con quello noi possiamo ballare insieme, suonare insieme e cantare insieme. Ogni anno che facciano questi festival culturali di Comune di Ravenna. Anche per promuovere i diritti più forti degli immigrati in questo territorio di Comune di Ravenna. Come giudichi il livello di integrazione qui a Ravenna? Sì, il livello di integrazione qui alla Comune di Ravenna è, come io spiego prima, la folla è una relazione interculturale degli immigrati e cittadini italiani. Dove noi fare una buona collaborazione con tutte le associazioni di immigrati e le associazioni italiane. Noi dobbiamo fare insieme un culturale, insieme, loro sapevano il vostro culturale, anche il nostro culturale, insieme. Anche in pace con tutti i cittadini italiani di questo territorio. Quali problemi principali hai potuto notare nella comunità degli stranieri? I problemi come prima, i problemi di lavoro, problemi di casa e problemi di sanitario. La scuola mantiene l'infanzia dei bambini. Quei problemi che noi dobbiamo guardare insieme come risolvere tutti questi problemi. Come io spiego, intendi di organizzare un seminario ogni semestrale. Con la famiglia, tutte queste famiglie che hanno bisogno di aiuti, anche l'associazione di immigrati e la Comune di Ravenna. Lì noi dobbiamo essere d'accordo con un buon progetto, anche i problemi che è presentato avanti al Consiglio Comunale. Manuela Fogliera per Ravenna Web TV Grazie a tutti.